Benvenuti al nostro video. Pancia gonfia. Ecco come eliminare il gonfiore addominale. Il gonfiore addominale può essere molto fastidioso. Pertanto, è importante conoscere le cause per cercare soluzioni efficaci. Ma prima di andare avanti, voglio invitarti a mettere un bel like su questo video. Ci aiuterai a sostenere il canale e a prendere nuove iniziative come questa. A volte, il gonfiore può essere causato dall'ingestione di alimenti che producono gas. Altri fattori possono includere l'ansia o lo stress, che influenzano la digestione. È anche possibile che il gonfiore sia causato da un'alterazione della flora intestinale. Inoltre, le malattie intestinali possono causare gonfiori e disagi frequenti. Prima di continuare, voglio ricordarti che all'interno della descrizione di questo video puoi scaricare la guida gratuita alla dieta chetogenica, potenziata uno strumento straordinario che ti consentirà di diventare una macchina bruciagrassi. Ma continuiamo. Pertanto, è fondamentale visitare regolarmente il medico per escludere qualsiasi problema di salute. Ma ci sono anche dei modi per prevenire e trattare il gonfiore addominale. Prima di tutto, dovresti cercare di mantenere una dieta equilibrata. È importante includere nella tua dieta cibi ricchi di fibre. Tuttavia, ricorda di aumentare l'assunzione di fibra gradualmente. Bevi molta acqua durante il giorno per facilitare la digestione. Evitare l'alcol, che può contribuire al gonfiore addominale. Inoltre, prova a ridurre l'assunzione di sale che può causare ritenzione idrica. Non dimenticare di fare esercizio fisico regolarmente per mantenere sana la tua flora intestinale. È anche molto utile fare una passeggiata dopo i pasti. Yoga e meditazione possono aiutare a ridurre lo stress, migliorando la tua digestione. Evita di mangiare troppo velocemente. Masticare bene può ridurre l'aria che inghiottiamo. Una notte buona di sonno può influenzare positivamente la tua digestione. Alcuni integratori possono anche aiutare a ridurre il gonfiore, come quello a base di enzimi digestivi. L'uso regolare di probiotici può anche essere benefico per la tua flora intestinale. Alimenti fermentati come lo yogurt possono aiutare a ridurre il gonfiore. È importante ascoltare il tuo corpo e notare se alcuni alimenti causano più gonfiore di altri. Inoltre, considera di evitare cibi grassi e fritti che possono peggiorare il gonfiore. Ricorda che non esistono soluzioni miracolose, ma piccoli cambiamenti possono fare una grande differenza. Non esitare a consultare un nutrizionista o un dietologo se hai bisogno di aiuto. È importante ricordare che la tua salute è la cosa più importante. Speriamo che questi consigli vi aiutino a ridurre il gonfiore addominale. Ricorda, ogni persona è unica, quindi quello che funziona per una persona potrebbe non funzionare per te. Proverai alcuni di questi consigli? Fateci sapere nei commenti. Grazie per aver guardato il nostro video. Pancia gonfia. Ecco come eliminare il gonfiore addominale. Speriamo che queste informazioni siano state utili. Se ti è piaciuto questo video, ricorda di mettere mi piace. E non dimenticare di condividere questo video con i tuoi amici e familiari. Per altri video come questo, non dimenticare di iscriverti al nostro canale. E attiva le notifiche per non perderti i nostri nuovi video. Grazie ancora per aver guardato e ci vediamo nel prossimo video. Ricorda, una vita sana è una vita felice. E la tua salute è nelle tue mani. Grazie e arrivederci.